Allora, a questo punto vorrei un applauso forte alle parazze, l'insuperabile, facciamo un applauso, la formidabile, la mondiale, ultra stambici miei e a tutta la barra, con un forte applauso, allora noi redichiamo a tutta la barra. Allora, Gigi, redichiamo la canzone nostra, in due quartine ci fermiamo dieci minuti, ok? Allora, rinnoviamo l'invito a tutte le persone. Allora, adesso facciamo l'alzata, ok, due parti, Gigi, due parti, e la redichiamo a tutta la barra, ricordiamo che lunedì 19... no, lunedì a po', ci sarà il Ciglio sfogliato, lunedì 13, siamo Troviscete ci ho guidato, molto bene. 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 Venite, venire a parte.